Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio è cominciato il terzo turno del campionato di serie A con l'anticipo del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Sampdoria. Vittoria sorpresa della formazione blucerchiata con il punteggio di 2-1. Inizia l'evantaggio con Quagliarella su rigore e poi nella ripresa il pareggio di Vlaovic e a 5 minuti dal termine con un pallonetto sul rinvio del portiere Verro ha messo il sigillo. Oggi altre partite importanti tra cui la zona salvezza risulta particolarmente importante per Sassuolo e Crotone con i Romagnoli reduci da successo dello Spensia mentre il Crotone sconvitto dalla Milan attesa poi per la sfida delle riulli tra Udinese e Roma con i giallorussi di Ponseca Caccia del riscatto dopo il 2-2 contro la Juventus mentre l'Udinese medita vendetta dopo l'ultimo KO. Le altre gare in programma domenica sono Atalanta-Cagliari, Benevento-Bologna, Lazio-Inter, Parma-Verona, Milan-Spezia e Juventus-Napoli. Su questa partita veleggia un possibile spettro di rinvio dopo che un giocatore partenopeo Zielinski ed un collaboratore della società partenopea sono stati trovati positivi al coronavirus. E' tutto per questa edizione di weekend sabato del mattino, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale stasera alle 19.30. A più tardi.